più di 500 successi Obadro Cavana, Campagnola, Ciccinella il suo film sta andando alla grande in tutto il mondo è presente nei film festival in Argentina e in Cile signore e signori e con grande onore e con grande piacere che vi presento il grandissimo e simpaticissimo Gigione eccoci qua ok 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 buonasera buonasera a tutti per tutti i nostri pan e tutte le famiglie che stanno in piazza stasera il beat il beat anche un po' di Luasa Cicciunaca anche un po' di H, tutta H una buonasera a tutti sapete non è il nostro concerto è una mia ospitata però ospitata o concerto dove c'è Gigione non c'è problema iniziamo subito a cantare tutti insieme e partiamo sulle mani e partiamo sulle mani Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Un bacio alla grande D'Agigione, ragazzi facciamo un sondaggio, ma siamo tutti di Solofra? Sì o no? Asciamo la mano che è di Solofra? Per Solofra e per tutti i fanci di Giori? Adesso dobbiamo cantare un po' tutti i sinacigioni, però facciamo. Prima lato sinistra e per lato destra. Va bene, vediamo chi sa cantare meglio. Una canzone ho fatto un buon calcolo.